Penso anche una cosa, che dare 500 euro a migranti, ai comuni, ai sindaci, ai comuni, allora io darei 500 euro a ogni italiano e lì il governo può intervenire, non stiamo parlando di fondi europei, scusate, allora lì intervengo, oppure io intervengo a dare un futuro agli italiani che lo chiedono. Prima di entrare ne parlavamo con Esposito e l'idea è quella di andare in quella direzione, per esempio ci sono 15 mila italiani che sono i vigili del fuoco precari che in questo momento stanno aspettando una risposta, è gente che era l'Aquila e che ci ha dato una mano e che in questo momento stanno vivendo anche sotto la soglia di povertà, io stamattina ho sentito uno di questi vigili del fuoco che mi ha detto io rischio di perdere i miei figli perché non so che cosa dargli da mangiare, questi le abbiamo detto che erano degli eroi a queste persone.